Corrado, ci sei? Ti cederei la parola e ti ringrazio per essere presente qui con noi stasera. Ciao. Bene, grazie a voi per l'invito. Buonasera a tutti e a tutti. Mi sentite? Sì, sì. Ok, bene. Vi racconto un po' l'esperienza che abbiamo condotto in questi ultimi due anni, quando abbiamo dato vita alla rete per l'emergenza climatica e ambientale dell'Emilia-Romagna. Per usare la metafora del convegno, diciamo che il primo ragionamento che ci siamo fatti è stato quello di dire di mettere insieme più carpe per risalire la corrente. Nel senso che abbiamo provato subito dopo le elezioni del Consiglio regionale, dopo la Costituzione della Giunta Bonaccini, scampato pericolo rispetto alle vittorie delle destre, grandi festeggiamenti, abbiamo provato a mettere insieme le forze di tutti i soggetti che si occupano delle politiche ambientali dell'Emilia-Romagna. Abbiamo costituito la rete per l'emergenza climatica e ambientale, rete che mette insieme sia reti regionali, per esempio il coordinamento regionale per l'acqua pubblica, ma anche la rete di FUTZERO, Fridays for Future, Extinction Rebellion, sia molti comitati territoriali. Nel giro di qualche mese abbiamo raggruppato più di 80 tra reti e comitati territoriali che hanno dato vita a questa esperienza, sostanzialmente ponendoci tre obiettivi. Il primo è di costruire una convergenza sulle questioni di fondo che intervengono sulle politiche ambientali, dall'acqua all'energia ai rifiuti, al consumo di suolo, alla mobilità e quant'altro. Secondo obiettivo, quello di riuscire a superare la frammentazione delle vertenze delle lotte. Ci sono moltissime lotte in tutti i territori, in Emilia-Romagna, ma io penso tutto il paese è costellato di lotte e mobilitazioni, dal contrasto agli inceneritori, alle lotte contro le grandi opere. E però tutte queste, a parte alcuni casi eclatanti, soffrono di elementi di frammentazione e alla fin fine anche di isolamento. E ci siamo detti che vogliamo provare a costruire le connessioni tra le vertenze territoriali. Il terzo elemento su cui abbiamo ragionato è quello di far emergere il fatto che le scelte regressive che si fanno sull'acqua, sull'energia, in generale sulle politiche ambientali, sono figlie di un modello produttivo e sociale ben preciso. Un figlio di un modello produttivo e sociale che sostanzialmente continua a mettere la crescita quantitativa del PIL come elemento fondamentale, da cui fa discendere in qualche modo l'idea di modello sociale produttivo. E quindi in qualche modo riuscire a far emergere che occupandosi di queste questioni ci occupiamo dei beni comuni, ma ci occupiamo anche dell'insieme del modello sociale produttivo. E quindi in qualche modo con un'idea anche di alternative di cambiamento. Bene, diciamo, abbiamo costituito questa rete e alla fine del 2020, bontà sua, siamo stati chiamati anche al confronto con la regione su quello che è stato sbandierato come uno degli elementi più significativi, diciamo, della nuova legislazione regionale, cioè il patto per il lavoro e il clima, confronto durato diversi mesi. Giunta Bonaccini che si è presentata dicendo appunto vogliamo costruire un elemento innovativo, assumere la priorità della lotta al cambiamento climatico assieme appunto al tema del lavoro come gli assi fondamentali delle nostre politiche, chiamato tutti al confronto, sindacati, associazioni produttoriali, comuni, università, appunto reti ambientaliste, compresa la nostra rete appunto che si era costituita da poco, compresa l'Egambiente, ve la faccio breve, insomma, non sto entrando in particolari, però insomma dopo alcuni mesi di confronto grande successo nel senso che tutti, a parte noi, hanno firmato il patto per il lavoro e il clima della regione Emilia-Romagna, appunto sbandierato come fatto assolutamente innovativo. Noi non abbiamo firmato per la ragione molto semplice e cioè che a fronte, diciamo, di intendimenti che sulla carta potevano anche essere, come dire, come tutti i documenti anche positivi, e poi abbiamo continuato di scontrare invece politiche che sono politiche sostanzialmente regressive. Sull'acqua si continua la privatizzazione, in Emilia-Romagna l'acqua è sostanzialmente gestita da due grandi multiutility che sono IREN che conoscete appunto anche in Piemonte e ERA. Non solo si continua con la privatizzazione, non più tardi di un anno fa, con la scusa del PNRR, cioè il fatto che bisognava dare continuità di gestione, con un tratto di penna, la regione Emilia-Romagna in un provvedimento che non c'entrava niente, ha prorogato tutti gli affidamenti del servizio idrico fino alla fine del 2027. Guarda caso, proprio alla vigilia del fatto che veniva una scadenza a concessione importante. Per dirne una, a Bologna la concessione aerea sarebbe scaduta alla fine del 2021 ed eravamo già pronti a fare, come dire, ragionamenti e campagne importanti per la possibilità della pubblicizzazione. oppure, appunto, mentre si diceva facciamo il grande patto per il lavoro e il clima, come avete visto, si continua anche in Emilia-Romagna, si dice anche dovremmo esportare poi modelli in tutto il paese, si continua a puntare sulle fonti fossili. Da ultimo, la vicenda del gasificatore a Ravenna, oppure ancora il fatto che si continua a dire che si può continuare a estrarre gas metano nell'agriato. Potrei continuare sul consumo di suolo, sul fatto di dare priorità alle grandi opere autostradali, appunto, o per esempio a una proliferazione della logistica. Ancora sui rifiuti, dove addirittura è stato elaborato un piano regionale che prevede da qua al 2027 l'incremento nella produzione dei rifiuti. Insomma, sulla base di questi ragionamenti, di questa appunto contraddizione assolutamente eclatante tra, diciamo, enunciazioni di principio e politiche concrete, abbiamo, appunto, come rete per l'emergenza climatica e ambientale, deciso di non firmare quel fatto. apro e chiudo parentesi, ci sono state fatte, diciamo, mettiamola così, ci è stato detto in tutte le salsi che, insomma, perché ci chiamavamo fuori e avremmo potuto dare il contributo con le nostre idee, eccetera, ci, diciamo, tra virgolette, la argomentazione era appropriata perché quel patto è stato firmato per darvi l'idea di democrazia, dopodiché sono continuati sui singoli temi, peccato che sono continuati solo con chi aveva firmato quel patto. Noi non abbiamo più potuto confrontarci, appunto, sulle politiche ambientali della regione del Mide Romano. Bene, a fronte di questo fatto abbiamo, come dire, lavorato, abbiamo costruito un nostro contropiano per il clima e per il lavoro e poi abbiamo deciso di tentare la strada di costruire quattro proposte di legge di iniziativa popolare regionale, quattro proposte di legge che riguardano i temi dell'acqua, dell'energia, del consumo di suolo e dei rifiuti. Anche qua, poi se volete il materiale ve lo facciamo avere, ma diciamo sostanzialmente detto in pillole, le quattro proposte di legge hanno il centro, quella sull'acqua diciamo l'incentivazione per la pubblicizzazione, incentivazione perché come sapete una legge regionale non può disporre la ripubblicizzazione che è argomento di potestà esclusiva nazionale. La proposta di legge su rifiuti che ha l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di costruire una strategia per uscire dall'incenerimento andare da qua al 2030. La legge sull'energia che spinge sulle energie rinnovabili obiettivo 100% di produzioni rinnovabili nel giorno del 2035 e legge sul consumo di suolo che dice fermare da subito il consumo di suolo. Abbiamo costruito le proposte di legge è stato un lavoro abbastanza lungo partecipato appunto per costruirle e poi ci siamo cimentati con la raccolta delle firme che abbiamo fatto questa primavera. Raccolta delle firme che a differenza di quello che adesso prevede la legislazione nazionale per legislazione regionale si fa ancora nel modo tradizionale quindi raccolta di firme ai banchetti con la registrazione dei documenti autenticazione delle firme certificazione delle firme chi viene come molti di noi dell'esperienza dei referendum sa di cosa parla insomma un lavoro anche complesso dal punto di vista chiamiamolo così burocratico per presentare le proposte di legge occorrevano almeno 5.000 firme ne abbiamo raccolte 7.000 che abbiamo esattamente depositato la settimana scorsa con un presidio sotto la regione Emilia Romagna ora ovviamente non ci facciamo illusioni rispetto all'iter di queste proposte di legge e abbiamo ben presente che come dire che la possibilità che le proposte di legge facciano passi davanti sta dentro il fatto che si possa procedere di pari passo con elementi poi di mobilità di meditazione nei territori di sostegno alle leggi e di unificazione delle vertenze e costruendo le convergenze però per usare un'espressione che mi pare abbia usato Alessandro Agostino diciamo stiamo provando a esercitare l'ottimismo militante ecco abbiamo bisogno di fare appunto questa cosa qua perché pensiamo che appunto che rispetto alla situazione che stiamo vivendo appunto rispetto al fatto che sappiamo che si tratta di mettere in discussione complessivamente l'insieme delle scelte che vengono fatte sui beni comuni che in qualche modo sull'insieme delle politiche ambientali che appunto provare a fare questa operazione comporta in qualche modo un rilancio appunto del rapporto con le persone della mobilizzazione sociale della prospettazione di alternative dicevo appunto abbiamo fatto la raccolta di firme quella tradizionale i banchetti anche appunto perché non si può fare diversamente facendo anche una certa scommessa perché insomma uscivamo dal covid come siccome tutti devo dire che ancora una volta si conferma che un'esperienza di questa natura è un fatto importante questo ci ha consentito di produrre della discussione appunto nei territori e nella regione ovviamente come dicevo e finisco appunto si tratta anche di appunto di costruire una scommessa da sorreggere con la mobilitazione ma in primo luogo diciamo quello che mi pare importante sottolineare è che l'esperienza che abbiamo condotto ci dice che la convergenza tra i movimenti e tra i temi è un punto assolutamente nodale della fase che abbiamo davanti a noi questo secondo me vale nei territori vale a livello nazionale non solo perché i temi sono intracciati tra loro ma io penso che appunto questo serva per riuscire a costruire anche quella massa critica che possa provare a far mettere in discussione le scelte di fondo del modello produttivo sociale perché è di questo che stiamo parlando ed è su questo che siamo impegnati e mi fermo qua grazie a tutti